Il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta incassa la fiducia del PDL. Prendendo la parola al Senato, Silvio Berlusconi ha affermato che l'Italia ha bisogno di un governo che produca riforme istituzionali e strutturali. Ha quindi detto che il suo partito, non senza interno travaglio, ha deciso per il voto di fiducia. In mattinata Letta aveva esordito con queste parole. L'Italia corre un rischio che potrebbe essere un rischio fatale, irrimediabile. Sventare questo rischio, cogliere o non cogliere l'attimo, dipende da noi. Dipende dalle scelte che assumeremo in quest'Aula, dipende da un sì o dipende da un no. Il dietro fronte di Berlusconi, che fino a ieri sera aveva spinto per la sfiducia, ha il sapore di una sconfitta politica dopo la spaccatura che si è creata all'interno del suo partito. I voti dei senatori del PDL sono infatti determinanti per la sopravvivenza del governo. Ci vuole un ricambio.